Signori, ben ritrovati, mettetevi comodi perché potrebbe durare un po' il video, parliamo di Simone Inzaghi, parliamo della situazione, della partita, direi che non c'è nient'altro da aggiungere, sono stato abbastanza chiaro nell'ultimo video, è stato un momento di incassatura totale, è stato un momento di depressione calcistica unita a una rabbia, a uno sfogo, che in quel momento era qualcosa di inevitabile, è stato un miscuglio di cose veramente allucinante, comunque per parlare di Inzaghi bisogna andare a ritroso perché sono tornato sul web da poco, quindi le mie considerazioni, i miei pensieri che avevo fatto l'anno scorso ovviamente voi non potete saperli oppure li ho espressi in minima parte in qualche video dal mio ritorno e adesso partiamo a ritroso. Simone Inzaghi arriva su una panchina dove vanno via Lukaku, Hakimi, Ericsson per i motivi che ovviamente conosciamo e per grazia divina ringraziamo il signore che è vivo e quindi eredita una squadra dal signor Antonio Conte ancora competitiva, ancora competitiva con ovviamente una grande mentalità vincente che quella secondo me è rimasta appunto grazie ad Antonio Conte. però i primi mesi che cosa fa? Fa vedere un grande gioco, Inzaghi si impone subito, riesce a far vedere chiaramente, non sprazzi, proprio un bel gioco europeo, la squadra gioca veramente bene e quindi qui si vede l'impronta dell'allenatore, si vede un cambio sotto quel punto di vista che unito alla mentalità di Conte fa sì che non partiamo proprio sfrombattuto, sicuramente meglio di adesso però insomma perché comunque perdemmo contro la Lazio se vi ricordate all'inizio, avevamo fatto qualche passo falso con qualche pareggio però si vedeva sempre la garra, si vedeva sempre qualcosa oltre al bel gioco anche con il Real in Champions e comunque avevamo pareggiato sì il derby d'andata eravamo indietro di qualche punto, poi il Milan barcollò, noi lo superammo in classifica e così insomma, chiudemmo da campioni d'inverno ma poi cosa è successo? Qui si sono iniziati a vedere secondo me i grandi limiti di questo allenatore chiaramente la squadra lì secondo me era calata fisicamente, forse un po' anche mentalmente però siamo stati anche comunque un mese e mezzo, due senza i gol di Lautaro e questo è stato determinante ma già lì secondo me si vedeva il poco polso di questo allenatore che ripeto ha beneficiato della mano, della mentalità che Antonio Conte aveva lasciato in eredità a questa squadra però io mi stavo convincendo comunque anche quando era arrivato Simone che un minimo di polso ce lo avesse perché comunque con la Lazio aveva vinto batteva la Juve nelle supercoppe, alzava le coppe Italia, di certo la Lazio non poteva ambire a vincere qualcosa di più se non magari un'Europa League ma non è mai andata chissà quanto avanti a parte forse una stagione di cui non ricordo sinceramente quale fosse comunque credevo che avesse un pochino di polso e mi autoconvincevo sempre di più che comunque Inzaghi potesse stare su una grande panchina pensavo che al momento no fosse un calo dettato anche dal fatto che comunque lui non è Antonio Conte quindi non l'ho mai comparato a Conte stesso quindi come carattere però pensavo che un pochettino si facesse intendere nello spogliatoio e che avesse le capacità per stare in una grande squadra tant'è vero che poi dopo vabbè ci siamo ripresi c'è stato il derby di ritorno che lì è stato il patatrack della stagione e poi è successo quello che è successo a Bologna poi questo non è per parlare di nuovo di che cosa abbiamo perso l'anno scorso questo è per sottolineare la mentalità di Inzaghi già in estate era uscita una dichiarazione di Cialanoglu che attaccò l'allenatore dicendo che secondo lui era la causa della perdita dello scudetto lui faceva riferimento al derby al derby perso poi dopo è saltato fuori che non era vero ma da me si dice non si muovono le foglie se non tira il vento tradotto vuol dire che c'è sempre un filo di verità se qualcosa si muove e quindi già qui quindi qualcosa tra società che insomma è quella che è non voglio più parlare di non voglio parlare di più di Zang perché non c'è niente da dire Zang doveva vendere quando era ora e quella è la sua colpa più grande quindi Zang non voglio più parlare e quindi già lì si era iniziato a capire a capire qualcosa deve essersi rotto definitivamente qualcosa perché c'è ancora qualcuno c'è ancora qualcuno secondo me non secondo me perché c'è ancora qualcuno che pensa che questo sia un momento questo non è un momento cioè i momenti sono diversi i momenti pensavo mi stavo autoconvincendo anch'io che potesse esserlo perché dopo quella vittoria contro il Torino molto sudata e comunque la prestazione autorevole Champions League va detto pensavo che avremmo inanellato una serie comunque di risultati positivi così non è stato cioè i momenti questo non è un momento Inzaghi non ha più la squadra in mano cioè fossi lui io mi dimetterei anche cioè proprio non succederà mai perché ormai nessuno rinuncia più a tutti questi milioni e questa è una cosa che fa che fa venire la tristezza che era trista ma ancora di più era trista vedere un Inter senza anima senza garra senza voglia di lottare senza idee che non sta dando l'allenatore gli sta mandando in confusione totale togliendo Mkhitaryan e bastoni dopo mezz'ora nell'ultima partita perdendo la credibilità verso chiunque i giocatori in primis la stampa i tifosi ovviamente i tifosi che non si meritano di vedere uno scempio del genere nessun tifoso si merita di vedere una squadra senza anima mi passa la voglia di vedere le partite io lo faccio per dovere di cronaca perché devo devo espormi comunque non è che sono obbligato lo faccio per passione su questo canale su questi canali insomma e quindi arriviamo a questa stagione qua dove si fa vedere dove Inzaghi fa uscire tutto il il suo poco polso la sua poca adempiezza a poter ricoprire un ruolo di connotiero di una grande squadra e quindi mi sono dovuto ricredere ho dovuto chiedere scusa a me stesso in primis non non posso chiedere scusa a voi perché comunque ripeto l'anno scorso appunto non ero non ero ancora tornato sul web e non avevo modo di esporre non ho potuto esporre ciò che pensavo su di lui ma chiedo scusa in ogni caso perché mi sono dovuto ricredere mi sono dovuto ricredere alla grandissima poi su bastoni dovevo parlare nello scorso video per fare una parentesi un'involuzione totale di un giocatore uno dei pochi centrali di quale forse l'unico centrale di prospettiva che può garantire alla nazionale un futuro erosio rovinato da queste cose da queste scelte da queste scelleratesse dell'allenatore De Vrij che ormai è un cadavere in campo ci sono tante cose da dire talmente tante cose che non funzionano e probabilmente mi sto ancora dimenticando di parlare anche di un'altra cosa ma mi sono ricordato di questa cosa di bastoni se non sono per qualche colpo se non è per qualche colpo di qualche comunque campione che in rosa c'è tipo la punizione di Barella ogni tanto le giocate le invenzioni di Brozovic quando torna la Lukaku speriamo anche nelle sue comunque questa è la verità questa è la situazione poi aggiungiamo anche che in conferenza stampa vai a dire che hai voluto fare quei cambi lì perché erano ammoniti perché erano ammoniti cioè allora una mentalità più da perdente di questa non esiste e poi i soliti cambi togli un difensore per ogni parte che togliere un difensore per mettere un altro difensore è scombusolato la difesa 600 volte nell'ultima partita e i cambi sono sempre quelli una punta per una punta un centrocampista per un centrocampista a Lecce è stata una parentesi è stata una parentesi tu hai voluto fare una parentesi basta stavamo stavamo pareggiando contro contro il Lecce hai messo su 16 punte ed è stata l'unica parentesi della tua carriera probabilmente tu non sei più in grado di farlo io ti do un consiglio Simone cioè ti stimo ancora come persona non mi stai sulle palle per carità di Dio dimettiti ci sono due cose adesso poi finisco anche con il discorso dei giovani che non viene dato spazio ad Aslani soprattutto che Aslani può essere peggio di Gagliardini può essere peggio di Gagliardini Aslani non credo non credo Bellanova anche lui non gli viene mai dato spazio cosa li abbiamo presi a fare questi qua comunque dicevo ci sono due cose adesso a fare due cose la prima è appunto cambiare la rotta cambiare il condottiero cambiare il condottiero in panchina ripeto Stankovic Cambiasso o Kiw hanno il patentino da allenatore Stankovic su tutti sarebbe forse una grande soluzione che comunque tutti e tre prenderebbero poco e probabilmente Stankovic c'ha veramente il fuoco dentro c'ha veramente l'interismo c'avrebbe veramente due pelotas così per guidare la squadra e potrebbe essere un traghettatore validissimo fino alla fine stagione Cambiasso magari caratterialmente un po' più tranquillo ma credo che anche lui lo chiamavano l'allenatore in campo possa essere una soluzione molto molto papabile una degna soluzione e Kiw non so se allena ancora la primavera non lo so se possa essere comunque degno ma peggio di così ragazzi è impossibile peggio di così è impossibile c'è tre sconfitte nelle prime sette partite tre gol contro tutti contro quelli che gli perso gli perso sempre tre gol tre gol dall'Udinese tre gol dal Milan tre gol dalla Lazio tre gol dalla Lazio che va a perdere 5-1 col Midgill dai va bene ragazzi basta ho finito non voglio dilungarmi troppo perché poi dopo dopo rischio di essere anche dire sempre le stesse cose e rischio che che mi incazzo signori se vi piace l'Inter il calcio iscrivetevi ditemi la vostra nei commenti lasciate un mi piace sempre Forza Inter io vi saluto